dunque oggi parliamo di abram yoshua abram yoshua è un autore israeliano come vedete da settembre oggi abbiamo studiato letto opere di autori di diversi paesi quindi siamo veramente occupati di letteratura mondiale e quindi questa mattina facciamo un salto in israele perché abram yoshua è un romanziere israeliano vivente che insegna letteratura comparata all'università di haifa è un grande fautore della psicanalisi lui stesso ha svolto un'analisi personale per diversi anni ed è anche un autore molto amato dal pubblico italiano anzi direi che il pubblico italiano quando i suoi libri sono stati diffusi a partire dagli anni 90 nel nostro paese l'ha molto apprezzato e molto spesso lui ha fatto dei viaggi in italia e delle conferenze parliamo un attimo della poetica cioè delle sue tecniche di scrittura allora prima di tutto i suoi romanzi hanno sempre uno sfondo psicologico ecco la psicologia quindi le relazioni tra i diversi personaggi e loro ambienti è la cosa più importante di yoshua che questi personaggi agiscono attraverso delle azioni quindi si comprendono per quello che fanno e per i dialoghi e quindi naturalmente per i rapporti che si instaurano fra di loro ciò che è interessante anche nei racconti di yoshua è che sembra non esserci una sorta di verità oppure come dire una voce narrante unica ecco la realtà è sempre presentata da punti di vista diversi e poi il lettore quindi leggendo questi romanzi si fa le proprie opinioni che potrebbero anche divergere da quelli da quelli di altri lettori proprio perché si tratta di punti di vista un romanzo particolarmente interessante da sotto questo aspetto è proprio un divorzio tardivo ora pensate che un divorzio tardivo è composto da diversi capitoli ognuno dei quali esprime il punto di vista su quegli avvenimenti che stanno capitando il punto di vista di una persona che partecipa a questi avvenimenti e che è una persona diversa dalle altre ma non ho capito in ogni capitolo c'è una persona diversa che esprime la propria opinione esatto esattamente in ogni capitolo c'è una persona diversa che racconta e quindi la vicenda si svolge durante nove giorni che sarebbero i nove giorni della pasqua ebraica e durante questi nove giorni noi abbiamo punti di vista diversi delle persone che sono poi un nucleo familiare israeliano che partecipa a questa pasqua ebraica di che cosa parla la vicenda la vicenda parla di un signore che si chiama Yehuda Kaminka che vive negli stati uniti e ebreo che ritorna in israele però ritorna in israele con lo scopo di separarsi da sua moglie ormai sono anziani hanno vissuto lontano per tantissimi anni e quindi devono regolare anche per questioni giuridiche di eredità nei confronti dei figli eccetera eccetera devono regolare la loro unione che deve essere sciolta per farlo quindi rientra in israele siccome questo personaggio non non è più stato in israele per per molti anni anni lui si è perso le vicende della sua famiglia per esempio di sua figlia di suo nipote e quindi ecco che il primo capitolo si apre in un modo molto curioso perché il primo capitolo è rappresentato dal punto di vista del bambino il bambino che vede arrivare questo nonno di cui tutti parlano questo nonno dagli stati uniti ed esprime le sue posizioni ed è il capitoletto che vi invito a leggere e che io adesso vi leggo ve lo leggo in questo modo vi leggo cioè a mano a mano che lo leggo commenterò il testo naturalmente siccome si tratta di un bambino Joshua ha cercato di scrivere anche come un bambino potessi si potrebbe esprimere quindi per esempio senza punteggiatura o con una punteggiatura particolare poi tutto minuscolo e così cioè si mette proprio dal punto di vista del bambino allora iniziamo questa lettura abram yoshua un divorzio tardivo il nonno ho pensato è arrivato per davvero fuori piove non è un sogno me lo ricordo bene mi hanno svegliato per davvero perché me lo avevano promesso di svegliarmi subito quando arrivava dall'aeroplano anche se io dormivo per questo avevo ubbidito ad andare a dormire e non aspettarlo alzato da principio sì ho sentito discutevano al buio perché papà non voleva accendere la luce ma la mamma ha detto gliel'ho promesso e papà ha detto allora avrà abbastanza tempo per vederlo ma la mamma si è impuntata solo per un momento vieni papà vieni a vederlo sono già tre giorni che ti aspetta non la smette un istante di chiedere di te che poi non era vero per nulla e la luce si è accesa ma io non potevo aprire gli occhi perché la luce mi faceva male e allora ho sentito la voce rauca e nuova del nonno che era entrato non credo ai miei occhi ma questo è davvero gadi e io che lo pensavo ancora un bamboccio sei diventato un gigante gigante ha detto lui e non grasso ma papà ha detto ridendo il tempo mica dorme gadi non assomiglia a voi assomiglia a noi è grande e grosso e sano la coperta lo nasconde adesso ma lo vedrai i compagni a scuola lo chiamano boxer è proprio così dolce com'è che il cuore mi ha fatto male un'altra volta perché schemi ha sussurato la mamma il bambino ormai è sveglio e mi ha carezzato la testa e ha cercato di tirarmi su ma non ha fatto tardi come al solito nonno aveva già sentito e avesse spiegato adesso al nonno delle mie ghiandole ma lei mi ha messo a sedere sul letto e mi ha tenuto la schiena perché io cascavo dal sonno e mi ha dato baci bagnandomi con le lacrime allora cominciamo da questo primo paragrafo che cosa succede il nonno arriva d'accordo però si sviluppa un conflitto immediatamente tra il papà e la mamma di gadi gadi il piccolino che aspetta il nonno perché il bambino sta dormendo e il papà dice lascialo dormire e poi lo vedrà domattina invece la madre che sarebbe la figlia di questo nonno la madre invece insiste per vedere il bambino e quindi c'è proprio un conflitto come dire sull'appartenenza di gadi chi ha il diritto di chi ha più diritto diciamo sul figlio la madre o il padre dunque gadi fin dall'inizio diventa la posta in gioco di un conflitto fra i suoi genitori e purtroppo questo conflitto si svilupperà come abbiamo visto in questo paragrafo perché perché quando il nonno viene accompagnato nella stanza dalla sua figlia che è la mamma di gadi il nonno fa dei complimenti al bambino gli dice come sei bello grande come sei cresciuto e invece il papà che vede che si sta instaurando una relazione tra il nonno che fa parte della famiglia materna e gadi interviene per cercare di spezzare questa relazione e dice no ma i compagni a scuola non è grande è grosso cioè come dire è grasso è sano lui dice però è grosso anzi i compagni a scuola lo chiamano boxer allora qui dobbiamo capire che veramente il bambino è messo in mezzo in questo conflitto e il padre lo mortifica perché dire un cioè è chiaro che a gadi non fa piacere che i suoi compagni lo chiamino boxer e non gli fa piacere non si sente a suo agio con il suo corpo e il papà che cosa fa però insiste proprio su questo punto cioè dice lo vedrai a scuola i compagni lo chiamano boxer cioè tira fuori qualche cosa che a gadi da fastidio e lo fa per cercare di determinare una separazione tra gadi e nonno però in questo modo mortifica il ragazzino infatti lui che cosa dice dice va bene cadmi e la sua sorellina quindi si stava svegliando d'accordo però quando arriva la mamma lui dice ma perché dice avesse spiegato adesso al nonno delle mie ghiandole cioè perché la mamma non rettifica quello che ha detto il padre perché evidentemente i medici avranno spiegato che gadi sta ingrassando e diventando grosso così perché ha un problema ghiandolare di un certo tipo eccetera quindi è una giustificazione questa medica alla quale gadi si aggrappa si aggrappa perché lui non può pensare tutta la vita di essere così brutto e presi in giro dai compagni e quindi deve aprirsi una prospettiva questo ragazzino il punto è giustamente lui si chiede ma perché mia mamma non mi difende perché sua ma la risposta è perché sua madre è presa nel conflitto con il padre e quindi davvero questo bambino è oggetto di questa tensione che si sviluppa tra i genitori andiamo avanti non si ricorda di me ti ricordi di me gadi te l'avevo detto che alla fine sarebbe venuto ha fatto la mamma ridendo e anche piangendo negli occhi volevi che ti svegliassimo e io ho messo le labbra sulla gota asciutta e non rasata per dare un bacio basta detto papi e mi ha preso dalle braccia del nonno e mi ha rimesso nel letto e loro erano già accanto alla bambina per vedere lei addormentata quindi vedete con che violenza interviene il padre cioè lo ha preso dalle braccia del nonno lo ha rimesso a letto e poi cosa ha fatto colmo dei colmi sono andati tutti a vedere la bambina ora se voi vi ricordate quell'episodio di svevo in cui il fratello insomma è geloso del suo fratellino più piccolo è chiaro che ci hanno messo gadi in una situazione molto complicata da un punto di vista psicologico l'hanno mortificato gli hanno tolto il nonno e tutte le attenzioni adesso sono alla bambina piccola la sorellina e papà ha detto avrai tempo di vederli bene fino a stufartene ecco questo è l'opinione del padre in realtà il padre lui ritiene spera che gadi si stufi di vedere il nonno e ha spento la luce e mi sono quasi riaddormentato ma e qui è il colmo dei colmi perché guardate cosa succede ma papà è tornato e mi ha tirato la coperta ora che ti succederà un'altra vergogna cioè la vergogna vuol dire farsi la pipì a letto non ne ho bisogno ho detto basso basso cioè con la testa bassa mortificato prova ce n'è sempre qualche goccia e mi ha fatto alzare e mi ha aiutato a infilare i piedi nelle pantofole mi ha portato al gabinetto mi ha tirato giù i pantaloni e ho visto la casa tutta illuminata valigie borse la schiena del nonno che stava per sedere con il cappello in testa beveva il tè ma non mi è venuto nemmeno un gocciolino di pipì la testa mi ciondolava sopra la vaschetta dell'acqua cioè questo ragazzino morto di sonno con la testa che gli pensola sopra il water non riesce a fare un goccio di pipì ma è ovvio perché perché è la negazione dell'affetto un bambino bisogna capire questo che un bambino fa le cose compresi i suoi bisogni essenziali anche per una questione affettiva lo fa anche per far piacere lo fa per ricevere delle coccole lo fa per ricevere delle gratificazioni è ovvio che a questo punto non gli venga la pipì perché non c'è nessun nessun elemento affettivo in questa relazione con suo padre non ho sentito nulla ha detto lui no io l'ho fatta e mi sono tirato sui pantaloni sono tornato a letto cosa vuole da me perché mi corre sempre dietro come un poliziotto eccolo qua interessante mi corre sempre dietro come un poliziotto e lui mi ha rimboccato la coperta e mi ha detto dammi un bacino io gli ho dato un bacino e anche lui mi ha dato un bacio forte forte e allora ho sentito che se avessi aspettato forse sarebbe venuto un po' di pipì ecco vedete come stanno le cose nel momento in cui si sono scambiati un bacino e quindi sembra apparentemente sembra che l'affetto sia tornato allora a questo punto torna anche la voglia di fare la pipì ma proprio per via di quel fischio me ne sarebbe venuta un po' e mi sono riaddormentato ora è già un po' che lì sotto è caldo e bagnato e quindi praticamente la notte sta trascorrendo e lui alla fine la pipì se l'è fatta veramente addosso nel letto è caldo e bagnato con l'odorino dolce della vergogna e la pioggia la sento gocciolare sempre anche se per qualche giorno c'è la pasqua la pasqua vera oggi è il seder che è la festa ebraica della della pasqua è una delle ricorrenze pasquali e in casa c'è silenzio non c'è nemmeno la radio papà è sulla porta sono già le sette ti alzi o no viene a tirarmi giù la coperta ma io la tengo forte forte e già perché è tutto bagnato di sotto quindi lui non vuole mostrare questa vergogna come la chiamano in famiglia che poi non è una vergogna voglio dire tutti i bambini fanno la pipì a letto non può essere definito in questo un bambino non può essere mortificato per qualche cosa che è natura non può essere mortificato in generale ma poi non lo si può mettere sotto accusa per qualche cosa che è naturale mi alzo detto e lui non ha sentito l'odore è uscito via e io mi sono alzato ho richiuso un po la porta mi sono levato svelto i pantaloni bagnati li ho ficcati nella cartella cioè li mette nella cartella per andare a scuola perché li deve nascondere quindi immaginate con quale ansia con quali difficoltà e problemi questo bambino va a scuola portandosi dietro i calzoni bagnati del pigiama dove ha fatto la sua pipì nella notte e ci ho messo sopra i libri di scuola e ho preso una vecchia coperta di lana l'ho messa sopra la macchia sopra la macchia del letto perché l'asciugasse no l'assorbisse la bambina ha aperto gli occhi sono andato in bagno e mi sono lavato il viso le valigie del nonno sono scomparse solo il cappello è restato sulla tavola della cucina veniva un odore di caffè papà stava seduto dietro il giornale dov'è la mamma dorme sono andate a dormire che era già quasi giorno yalla spicciati piove ti porto io a scuola vuoi un uovo anche qua vedete il bambino chiede dov'è la mamma e il papà dice dorme sono andate a dormire che era già quasi giorno va bene ma c'è un motivo cioè voglio dire è arrivato suo padre avranno avuto un sacco di cose da raccontarsi quindi anziché creare un'atmosfera favorevole per esempio anziché cogliere l'occasione per dire guarda è importante c'è un papà che rincontra la sua figlia dopo tanti anni che non si sono visti hanno avuto anche delle incomprensioni adesso hanno parlato stanno insieme è una bella cosa questa no invece lui è scocciato dov'è la mamma dorme sono andati a dormire che era già quasi giorno yalla spicciati piove ti porto io a scuola vuoi un uovo sì e mi sono seduto a tavola e la tavola era piena di roba da mangiare e papà si è alzato per friggere un uovo piena di roba da mangiare quindi se lui è grasso voglio dire la responsabilità non sarà tanto di questo bambino penso il nonno viene a stare con noi no cosa ti viene in mente cioè come figurati invece perché no potrebbe anche essere ospitato da loro in fin di conti ha fatto un viaggio lungo tanti anni che non viene visto perché no invece lui risponde bruscamente no cosa ti viene in mente va a stare con la nonna papà si è messo a ridere dov'è ridere ecco non bisogna ridere davanti un bambino che non capisce qualcosa perché ridi lui ha fatto una domanda che è corretta cioè se non sta con noi sarà con la nonna che sarà sua moglie che ne sa un bambino di tutte le vicende e i conflitti familiari quindi perché ti devi mettere a ridere è proprio veramente capite qual è proprio l'importanza di questo racconto che mette veramente in luce la mortificazione continua nei confronti di questo bambino quindi papà si è messo a ridere dov'è lì dove sta lei non ci sono mai stato proprio in quel paese dove sta la nonna ma solo vicino no è venuto solo per qualche giorno per sistemare certe cose che andrà anche da zui e anche da ass a gerusalemme poi ritornerà in america ecco certe cose qui bisognerebbe aprire un punto adesso importante ma non abbiamo molto tempo per svilupparlo però vi voglio dare questa indicazione ai bambini non bisogna nascondere le cose che avvengono bisogna trovare il linguaggio giusto per raccontarle certo perché altrimenti non le capirebbero ma qualcosa bisogna raccontare non si può tenere un bambino fuori dalla realtà deve vivere dentro la realtà perché perché un bambino se non capisce qualche cosa si fa le sue idee si fa lui le sue costruzioni mentali per cercare delle spiegazioni e queste costruzioni mentali potrebbero essere veramente anche straordinarie qualche cosa di completamente fuori dalla realtà però possono poi diventare con il tempo delle convinzioni quindi se tu non parli a un bambino e non cerchi di spiegargli queste certe cose che cosa sono in un modo adatto a lui questo bambino poco per volta si sentirà uno si sentirà deficiente perché se un adulto non lo prende mai in considerazione seriamente si farà l'idea che lui non è in grado di capire certe cose e poi queste certe cose lui le sostituirà con dei pensieri fantasmagorici delle spiegazioni completamente strampalate ovviamente quindi andrà via poi tornerà in america per sempre perché evidentemente questo bambino gadi prova un legame nei confronti del nonno e quindi chiede per sempre perché avrebbe il desiderio che nonno si fermasse lui dice per ora e mi ha dato l'uovo e anche una cioccolata e fiocchi di riso due fette di pane cioè ragazzi alla faccia allora tu prendi ti permetti di prendere in giro tuo figlio perché è grasso va bene e poi voglio capire chi lo mette in questa condizione perché questa è una colazione mattutina mi dà sempre un mucchio di roba da mangiare e poi vuole che finisca tutto fantastico e poi a scuola lo chiamano boxer perché piangeva il nonno quando stanotte piangeva io non l'ho visto beh cosa ne so gli è venuta voglia di piangere cioè ragazzi qui siamo veramente nella nel parossismo proprio gli è venuta c'è uno giro per strada gli viene voglia di piangere si mette a piangere così che la gente piange piange perché ha voglia di piangere il pianto è un godimento voglia di piangere piango ci saranno dei motivi spiegagli di questi motivi no a pianto perché perché era contento di vedere la famiglia perché la lontananza dopo tanti anni anche se hanno avuto dei problemi c'è un affetto c'è un legame è ovvio che si pianga e la cosa più naturale strano sarebbe stato non piangere in un'occasione di questo genere smettila di far domande spicciati che io devo andare no mi dispiace ma se tu ma se siamo la mattina alle 7 e tu ti stai occupando di tuo figlio per accompagnarlo a scuola non sei tu che devi andare ma è lui che deve andare a a scuola cioè al centro della questione c'è lui tu ti organizzerai col tuo lavoro in modo tale da poter accompagnare tuo figlio a scuola se non ce la fai ti organizzerai diversamente chiamerai qualcuno andrà tua moglie non lo so chiederai alla scuola un permesso di ingresso in ritardo tutte le mattine perché tu non puoi accompagnarlo non lo so cioè deve esserci una soluzione ma non puoi dire che lui si deve spicciare perché tu te ne devi andare perché il tuo tempo è il tuo tempo non quello del bambino sei tu che te lo devi saper gestire quindi non puoi imputare al bambino una difficoltà tua nella gestione del tuo tempo perché sei in ritardo e deve andare a lavorare e ho cominciato a mangiare ascoltando il silenzio che c'era in casa e vedendo le gocce di pioggia correre sulla finestra alla fine ho detto solo un bambino mi ha chiamato una volta boxer mica tutti allora guardate ragazzi questo è uno dei punti più importanti di questo capitolo perché ci fa capire diverse cose prima di tutto gadi tira fuori la questione del boxer nel bel mezzo di una colazione mentre stanno parlando d'altro quando suo padre gli ha detto spicciati quindi il bambino dovrebbe essere diciamo preso dai pensieri di dover correre a scuola no lui tira fuori questa vicenda del boxer perché ma perché evidentemente questa faccenda è rimasta lì a sedimentare tutta la notte lui ci ha pensato è stato un problema un grosso problema lui ci è rimasto veramente male e quindi la mattina la questione si riesplode in tutta la sua importanza viene fuori con tutta la sua forza dirompente per solo un bambino dice a suo padre cioè si difende gradi si difende nei confronti del padre solo un bambino mi ha chiamato una volta boxer mica tutti papà ha messo giù di un colpo il giornale e mi ha guardato e ha riso no questo uomo cioè sembra che la grande specialità di questo uomo è che quando ci sono delle cose importanti lui ride di fronte al figlio lo so lo so l'ho detto solo così per dire senza intenzione e no mio caro qui tu stai mentendo tuo figlio e quindi gadi comincia a capire che suo padre mente che il rapporto tra lui e suo padre non è un rapporto onesto prima di tutto perché non si dicono le cose per dire ai bambini non si dicono mai diciamo così no magari tra amici si può scherzare va bene si dicono delle battute delle cose solo per dire ma in generale non si dicono cose per dire e men che meno un bambino le cose che si dicono un bambino devono essere pensate ci devi ragionare puoi ridere scherzare nella grande spontaneità certo ma quando si tratta di argomenti importanti ci devi pensare senza intenzione no questa è una menzogna è una menzogna perché l'ha detto proprio con l'intenzione proprio con la precisa volontà di contrastare sua madre e poi anche se ti chiamano boxer che cosa me ne importa è grazie scusate grazie che cosa te ne importa te ma importerà qualche cosa a gadi ma chi deve importare deve importare a te padre o al figlio che viene chiamato boxer cioè c'è uno scambio continuo di ruoli tra il padre e il figlio per cui sembra quasi che l'identificazione del padre nei confronti del figlio giochi un gioco importante in questa in questa vicenda che vadano al diavolo anch'io sono un po grasso vedi non è mica una cosa così tremenda e no e no è certo che è tremenda per il bambino è tremenda è tremenda perché se viene bullizzato a scuola per questo è una cosa tremenda e non c'entra che tu sei un po grasso anzi se tu sei un po grasso mio caro papà sai cosa devi fare devi cercare di dimagrire per dare un esempio a tuo figlio per fargli vedere che le cose possono cambiare il tuo dovere stare in forma non quello di essere grasso vedi non è mica una cosa così tremenda soprattutto quando si è alti quindi che cosa dice il papà qual è il conflitto qui dietro il conflitto è semplice lui vuole che gadi come dire appartenga di più alla al lato familiare paterno che non al lato familiare materno vedi io sono così siamo alti nella mia famiglia siamo alti siamo grossi siamo un po grassi questo è il lato pater tu sei così come siamo noi però qui si nasconde il fatto che in realtà il papà ha questo problema che riversa sul figlio perché non vuole che il figlio perché non vuole che il figlio affronti questa la struttura del suo corpo come un problema ma perché il padre che lo vive come un problema per se stesso è lui che si sente troppo grosso e quando il figlio rimarca questo lui si sente in difficoltà perché come se il bambino lo mettesse di fronte costantemente al suo problema e si è alzato e mi ha fatto vedere la sua pancia che si era gonfiata apposta e ci ha battuto forte sopra con il pugno allora è vero che in certe circostanze diciamo bisogna un po prendere in giro i difetti è giusto questo no la gonfi la batti apposta col pugno ci ride ci scherzi sopra presa in sé questa questione questo questo comportamento va bene ma il problema è che la conseguenza di una serie di comportamenti sbagliati e quindi cerca di raddrizzare un po la situazione attraverso una certa auto ironia però quello che è stato detto prima rimane e poi dice vedrai che diventerai proprio come me non preoccuparti cacchio come non preoccuparti ma è proprio ma non hai capito che gadi quello che non vuole è precisamente diventare come te cioè è proprio il centro della questione quindi altro che non preoccuparti questa è la preoccupazione è la principale preoccupazione di gadi e infatti cosa dice ma io non voglio diventare proprio come lui e sono stato zitto e perché sta zitto sta zitto perché non hai niente da dire può dire un bambino io non voglio diventare come te forse lo può dire un adolescente forse quando avrai 15 16 anni 18 19 lo potrai dire avrai la forza di poterlo dire ma non quando ne hai 10 11 non puoi contrapporti a tuo padre a quell'età lì è molto complicato quindi stai zitto quindi stai zitto tuo padre crede tanto nel fatto che tu possa diventare come lui così tanto che tu non ce la fai a contrastare questo suo pensiero quindi tacci ma se tacci tuo padre rafforza la sua opinione perché non ha un contrasto non ha una contrapposizione quindi pensa che il tuo silenzio sia come dire accondiscendente in ogni caso la storia va avanti erano già più delle sette e mezza quindi mezz'ora è passata in tutta questa conversazione e ho finito di mangiare e sono tornato in camera mia a mettere a posto la cartella e a vedere se la macchia era scomparsa quindi in tutta questa conversazione questo bambino è stato anche sempre costretto a pensare alla sua macchia dentro la cartella eccetera ma non era scomparsa non era scomparsa e allora ho messo un po a posto il letto e la bambina mi guardava la sua sorella sempre fortuna che non può raccontare nulla perché non parla ancora quindi dice lui meno male cioè ci mancava anche il fatto che la sua sorellina potesse raccontare cioè sarebbe stato che vita per questo gallo un disastro completo e allora le ho messo in bocca al giugio cioè è vero che non può raccontare nulla ma siccome i bambini prima o poi parlano metti caso in questa inizia a parlare proprio adesso nel dubbio tac le tappo la bocca le metto in bocca al giugio e tanti saluti e sono passato accanto alla porta chiusa dove dormiva il nonno e ho guardato se aveva lasciato qualcosa per me ma non c'era nulla che sembrasse per me allora qui siamo di forte a una famiglia che veramente complicata è di poco ma come ma tu sei nonno il nonno di un bambino che è il figlio della tua stessa figlia non vi vedete da anni perché hai vissuto negli stati uniti ritorni per la pasqua che è una festa dove si fanno anche dei regali e tu non porti niente cioè ma dove hai la testa ma dove vivi ma cosa pensi tu del mondo delle relazioni tra le persone delle relazioni parentali il bambino guardate dormiva non ho guardato se ha lasciato qualcosa per me ma non c'era nulla ma perché il bambino è egoista vuole pensa solo ai giocattoli pensa solo a ricevere dei regali no è l'avere qualche cosa è una dimostrazione di affetto ora il nonno ieri sera la sera prima questo affetto l'ha dimostrato è stato bravo è stato capace a dire le cose diciamo giuste perché non ha portato un regalo e in effetti un regalo no no non ce l'aveva non è solo un'opinione di un'impressione di gatti e allora sono entrato in camera da letto e ho toccato la mamma e lei ha aperto subito gli occhi ha sorriso ma papà era già dietro di me papà era già dietro di me lasciala stare gatti non toccarla lasciala dormire in pace di cosa il bisogno il padre è geloso del rapporto che la mamma può avere con gatti vedete che sempre un elemento di distacco tra lui la madre e le personaggi della famiglia di lei di che cosa è bisogno di azime e vino e lattuga facciamo il sedere oggi in classe e perché non me l'hai detto ieri l'ho detto alla mamma e se tu ne facessi a meno allora lui non l'ha detto al papà l'ha detto alla mamma evidentemente la mamma non l'ha detto al papà cioè mi sembra una famiglia un po complicata dal punto di vista della comunicazione il bambino parla cerca di parlare con tutti ma i genitori non si scambiano le informazioni quindi è come dire la sua parola rimane rimane sospesa una parola che non viene raccolta da nessuno e quando viene raccolta guardate un po il modo in cui viene raccolta perché il padre risponde dicendo e se tu ne facessi a meno cioè ragazzi abbiamo un bambino di dieci anni siamo alla festa di pasqua a scuola si festeggia gli hanno chiesto di portare azime vino e lattuga tutti i compagni di classe tutti dal primo all'ultimo porteranno azime vino e lattuga e il padre gli risponde e se tu ne facessi a meno cioè tu vuoi che tuo figlio sia l'unico in tutta la classe a non avere gli elementi per festeggiare una delle principali feste ebraiche che è la pasqua e che loro festeggeranno anche a scuola di più magari ti fai imprestare qualcosa da un compagno cioè è la follia totale tienilo a casa cioè se tu sei una famiglia povera che non ha delle possibilità a parte che faresti il possibile per far contento suo figlio ma piuttosto che fargli una brutta figura ti inventi qualcosa ma non ti fai imprestare qualcosa da un compagno e comunque questa non è una famiglia povera per niente ti fai imprestare qualcosa da un compagno cioè tu ne fai a meno e poi sancisci di fronte a tutti che non sei in grado di avere azime vino e lattuga e lo sancisci perché devi chiedere con la tua parola a qualcuno di darti di darti un prestio quindi la tua parola sancisce la tua debolezza la tua inferiorità mi alzo io ha detto la mamma perché giustamente ha sentito questa conversazione quindi dice ci penso io no gliela do io vieni gatti ma spicciati quindi piuttosto che si alzi la mamma che sia la mamma a risolvere il problema di gatti il padre dice no allora glielo do io e sentite come glielo dà e papà è andato in cucina e mi ha avvoltolato in un giornale due azime in un giornale vabbè non so se è un'usenza ebraica se si usa così ho i miei dubbi perché magari non so un tavolio di carta o di stoffa comunque in un giornale due azime ha frugato nella poi dottorutto devi mangiare con l'inchiostro comunque ha frugato nell'armadio e ha trovato una vecchia bottiglia di vino e l'ha assaggiato e ha fatto una smorfia e mi ha guardato e mi ha detto tanto voi mica lo bevete è solo per il rito no? si ho capito che è solo per il rito ma c'è modo in modo anche gli puoi anche dare del vino vecchio perché credo che se non viene bevuto va bene no? diciamo è un simbolo ma la devi mettere in questi termini perché tu lo assaggi fai una smorfia quindi di fronte al figlio gli dici guarda ti sto dando una schifezza ma tanto poi non è così che devi fare a te tanto va bene tanto è una schifezza quindi per te gadi che sei grasso boxer brutto eccetera ti va bene anche questo questo è il messaggio che il bambino riceve è solo per il rito quindi va tutto bene e ha riempito un vecchio barattolino chissà che cosa dove prima c'erano dentro delle olive cioè ragazzi allora io non so qual è la posizione religiosa di quest'uomo perché potrebbe essere anche non praticante quindi potrebbe non festeggiare la Pasqua ebraica perfetto, legittimo ma allora non festeggiarla allora crea delle condizioni per fare qualcosa d'altro oppure sei uno che segue il rito ma se segui il rito questo è il modo di seguirlo è il modo di onorare un rito religioso è il modo di insegnare a tuo figlio che nei momenti importanti come questo si avvolgono due pezzi in un giornale un barattolino con delle olive un vino è così? è così che si insegna? gli insegni che un domani devo organizzare una festa una cerimonia un ricevimento qualche cosa importante basta basta niente niente fornire delle cose così non so neanche come definirle proprio senza attenzione senza cura ecco senza cura vi ricordate quel racconto di Hemingway un posto pulito illuminato bene ecco qui è proprio veramente assolutamente il contrario e ha detto della lattuga puoi farne a meno fattene imprestare una foglia da qualcuno cioè alla fine il bambino va a scuola cioè ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere perché il bambino va a scuola con un barattolino ex barattolino di olive dove c'è un vino imbevibile e con del pane e ficcato dentro un giornale e senza una lattuga e può farsene imprestare una foglia da qualcuno cioè io dico ma neanche un barbone fa una cosa del genere e io stavo per andare ancora dalla mamma giustamente perché il bambino cioè è come una partita ping pong il bambino se non trova ascolto da una parte va dall'altra e così via però in questo caso il bambino gioca proprio il ruolo della pallina lui è la pallina di una partita di ping pong tra il padre e la madre pam, 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 pam riceve un colpo dall'uno un colpo dall'altro un colpo dall'uno un colpo dall'altro e allora lui ha detto non essere così testardo è già tardi ma io gli ho detto devo portare la lattuga è bravo questo bambino Gadi vai Gadi bravo insisti fatti valere cerca di emergere da questa confusione e allora lui mi ha frugato nel cassetto ha frugato nel cassetto delle verdure e ha trovato qualche foglia vecchia e me l'ha data cioè tutto arrabbiato oltretutto anche arrabbiato ci mancava pure questo cioè è una cosa veramente incredibile no? fa ridere fa ridere vi ricordate Pirandello no? il il com'era il senso del contrario proprio l'avvertimento del contrario è proprio esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un genitore e per questo fa ridere ma dietro c'è una tragedia che è quella che stiamo cercando di capire da quando è che sei diventato così ortodosso? allora da qui capiamo che probabilmente la famiglia non segue molto la religione va bene però se tu non segui la religione è una cosa importante molto importante ed è una cosa seria perché tante persone credono veramente altre non credono altrettanto veramente e i rapporti tra questi due componenti cioè tra chi crede e non crede devono essere onesti devono essere chiari qui non c'è onestà perché probabilmente il padre non segue molto però non ha chiarito questo aspetto con il figlio e e la butta sul fatto gli dice da quando sei diventato ortodosso ma non è questa la questione non è il per un bambino il problema della Pasqua in questo caso non consiste nella sua convinzione nel credere e nel seguire la religione non è questo ma nel partecipare a ciò che i suoi compagni insieme agli insegnanti fanno in classe quello che conta per il bambino in questo momento è l'appartenenza l'appartenenza a un gruppo la comunità non nel suo senso religioso quindi se suo padre volge la domanda in questi termini è perché sposta il problema sposta il problema da un'altra parte ma vedete che questo bambino continuando a vedere i problemi spostati su un altro terreno la domanda è lui un domani riuscirà ad affrontare i problemi della vita se è stato abituato al fatto che i problemi non vanno mai affrontati direttamente per quello che sono ma vanno sempre spostati e il bambino adesso rinuncia a tutto ha detto io ho messo tutto nella cartella l'orologio tutto a un tratto è corso fino alle 8 meno 10 di cosa hai bisogno della merenda per la scuola e le azime non ti bastano cioè quelle che ha messo nella carta del giornale e lui il bambino dice quelle sono per il seder alla fine cioè alla fine facciamo la festa della Pasqua e bene te la do io così non fai la fame e allora mi ha tagliato svelto due spesse fette di pane mi ha spalmato sopra cioccolata e ha cominciato a far tintinnare il mazzo delle chiavi e tutto a un tratto la mamma era lì e mi ha detto che mi mettessi gli stivali e io sono andato a mettermeli e lei mi ha pettinato e papà ha incominciato a urlare uno o due io vado ed è andato e la bambina si è messa a piangere io mi sono messo la cartella sulle spalle la cartella con dentro il pigiama bagnato e sono sceso per le scale ma a metà mi sono ricordato e sono tornato su di corsa e la mamma mi ha aperto con già la bambina in braccio che cosa c'è? nulla e sono entrato di corso in bagno ho aperto la cartella e ho tirato fuori i pantaloncini del pigiama bagnati li ho ficati in fondo dentro il cesto dei panni sporchi e sono passato accanto alla porta del nonno e ho visto che dormiva a buio e accanto c'era la valigia aperta con i vestiti e non ho visto nulla per me cioè è pazzesco questo bambino è sottoposto a uno stress incredibile si è ricordato che aveva ancora i calzoni bagnati e il pigiama è tornato li ha depositati nel cesto dei panni ha guardato il nonno non ha visto nulla per sé poverino questo Gazi lo vedrai dopo quando tornerai a scuola la mamma mi ha toccato il braccio io sono corso giù per le scale l'automobile di papà aveva già il motore acceso i tergicristalli si muovevano un fumo bianco usciva da dietro cosa fai accidenti cosa hai dimenticato ancora nulla mi fa impazzire e no ragazzi qui mi sembra che sia il contrario siano i genitori in particolare questo papà per quello che abbiamo visto questa mattina che fa piuttosto impazzire il figlio nel senso di spostarlo dalla realtà cioè di confonderlo continuamente e le macchine venivano giù per la discesa papà non poteva uscire in strada e tutte strombettavano forte stridevano con i freni ma papà alla fine è riuscito è uscito in strada imprecando e mi ha fatto scendere accanto alla scuola e la pioggia già veniva giù sempre più forte i bambini correvano e uno mi è passato accanto e ha detto boxer boxer con gli stivali e io ho fatto per acchiapparlo e non l'ho visto più fra tutti gli altri ma ero sicuro che era quello solito di terza quello che mi aveva chiamato così già diverse volte e non c'è stato l'appello e siamo andati diretti in classe e la campanella era già suonata e Gilla la maestra ci ha parlato della pioggia che forse era quella che chiamano il maloccosh l'ultima pioggia della stagione e Gilla ha scritto sulla lavagna Macavelli e poi abbiamo aperto le Bibbie e prima ancora che lei ci dicesse qualcosa diversi bambini hanno già alzato le mani per rispondere alle domande che ancora non erano state fatte quindi lui si trova di fronte anche a una competizione molto pericolosa per la sua situazione dentro la classe bambini alzano le mani per rispondere alle domande che ancora non sono state fatte vuol dire che c'è una competizione molto forte molto accesa molto spinta che giocherà un ulteriore stress nei confronti di Gadi ci sono bambini così in classe che noi abbiamo letto la storia del patriarca Giacobbe che pensava che Giuseppe fosse stato mangiato perché tutti i fratelli gli avevano detto bugie e io ho pensato al nonno se si era già svegliato e allora la maestra mi ha detto se continuassi io a leggere a voce alta e io ho detto leggere cosa e poverino il bambino con tutto quello che gli è successo stava pensando al nonno ma molto spesso gli insegnanti sono proprio speciali per cogliere gli studenti proprio nel momento in cui stanno perché sono distratti d'accordo ma la distrazione ha un motivo quindi bisogna capirlo questo quando tu sei in classe insegnante e vedi che c'è una distrazione vabbè ci sarà un motivo quindi specialmente con dei bambini lui pensava al nonno la storia di Giuseppe gli ha fatto venire in mente il nonno e quindi dice leggere cosa il capitolo è finito e allora lei ha detto il capitolo nuovo e io ho letto e la fame era grave nel paese e quando ebbero consumati i beni che avevano portato all'Egitto e la maestra mi ha interrotto e mi ha chiesto che cosa vuol dire viveri e io ho risposto che è roba da mangiare ma non sapevo che cosa e Sigala ha alzato subito la mano e ha detto era uno grano e la maestra ha detto sia grano sia altre cose e abbiamo parlato di come si fa il pane del grano e io ho aperto la cartella per vedere se il pane era sempre lì e alla fine è suonata la campanella e io ho tirato fuori il pane perché avevo fame ma la maestra ha detto di rimetterlo dentro perché si mangia solo durante il secondo intervallo e nell'intervallo siamo restati nei corridoi perché fuori c'era fango e il vidello non ci ha lasciato uscire e ci ha sparso addosso segatura e i bambini si sono scatenati schiamazzando e io sono andato in giro a cercare il bambino che mi aveva chiamato Boxer e a vedere se me lo dicevo un'altra volta coraggioso Gadi e alla fine l'ho visto che scorazzava lì piccolo e magro e io gli sono andato accanto e lui ha solo riso con quegli occhi grandi e neri voleva che lo dicesse ancora perché così lo potevo sentire bene e lo potevo picchiare ma lui stava zitto e allora è suonata la campanella e lui è entrato nell'aula della sua classe proprio la terza e c'è stata la lezione di disegno e io ho disegnato un sole un recinto una casa come ci sono nel posto dove sta la nonna un uomo vicino al recinto e tenevo per mano un bambino ma il bambino mi è venuto grande grande quasi come un uomo perché qui c'è proprio il desiderio di Gadi di diventare grande e poi va bene il racconto continua lo finite di leggere voi qua fino al primo capitolo e cosa abbiamo visto abbiamo visto che c'è proprio la vicenda in cui può essere inserito un bambino la vicenda in cui può essere inserito un famiglio all'interno di un conflitto familiare di questo genere molto forte